Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è il risultato del contest di FIFA Che ho diciamo lanciato più o meno 5, 6, 7 giorni fa Insomma non mi ricordo Comunque siamo lì ragazzi Andiamo a vedere chi è il vincitore di questo contest Come avete visto vi ho fatto vedere anche l'orario in cui è stato chiuso il contest Se non avete visto rimandate indietro il video E andiamo a vedere chi è il vincitore di questo contest ragazzi Speriamo che il video non sia lunghissimo Speriamo di trovare subito la personcina che abbia tutti i requisiti al posto giusto Andiamo a vedere Andiamo a vedere paghi qui se si è iscritto al canale Se comunque ha le condivisioni pubbliche Se ha i requisiti giusti per poter vincere questi 30.000 crediti FIFA ragazzi Scusate ma è un po' lentino il pc oggi fa un po' i calzi suoi Però va bene diciamo che in linea di massima ci accontentiamo Come qui c'è l'iscrizione ragazzi E qui abbiamo che ha partecipato a molti contest Quindi ragazzi a questo punto sono anche contento di dare a paghi questi crediti Perché più che meritati insomma no Visto che ha partecipato anche ad altri contest che ha messo mi piace Quindi detto questo ragazzi Questo è il vincitore del contest di oggi Domani farò un altro contest FIFA Domani o dopo domani Per altri 30.000 crediti Quindi rimanete connessi sul canale Rimanete sempre aggiornati Aggiungetemi su telegram Lo trovate in descrizione sotto i miei video Che altro dire ragazzi Lasciate un bel like Condividete il mio canale Con i vostri amici Per nuovi contest e molto altro Detto questo Un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti